Buongiorno a tutti, siamo qui al Cybertech Europe 2017. Le aziende devono investire in innovazione e innovando potranno essere al pari degli attaccanti, proteggendo il loro business che è sempre più digitale. Anche la piccola e media impresa italiana è soggetta al cybercrime e lo è sempre di più. Invito le imprese medie del settore a valutare che il loro asset più importante a livello di business e oggi la loro customer base, i dati dei loro clienti.